Una grande vittoria contro il Taranto, una partita sofferta, però alla fine il Bicelli è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali. Sì, abbiamo fatto una bella partita, soprattutto il primo tempo. Dopo il secondo tempo abbiamo sofferto un po' il caldo, anche perché abbiamo giocato mercoledì dopo la brutta festazione di domenica. Il calendario fitto propone subito un'altra trasferta, in terra laziale, contro una compagine neopromossa, però ancora a zero punti. La concentrazione deve restare alta. Sì, non abbiamo sottovalutato nessun avversario, perché questo campionato è difficile. Cercheremo di dare il massimo domenica e di raccogliere tre punti. Aspettative personali per questa stagione e anche l'obiettivo che ti auguri di raggiungere con i Neroazzurri? Beh, non diciamolo l'obiettivo, però di fare bene, l'obiettivo è di giocare ogni partita, di migliorare e dare il massimo. Rapporto con il mister e con i compagni? No, un bel rapporto, c'è un bel gruppo, c'è un gran feeling, quindi si punta a fare bene.